Senatore, passiamo subito a un argomento che interessa molto i cittadini e cioè soprattutto gli studenti, la riforma Gelmini. Lei pensa che questa riforma in qualche modo possa essere così negativa come credono i ragazzi? No, io questa riforma la conosco bene, ci ho lavorato molto e conosco anche l'università. Vede, l'università classica era un'università di elitto, una sorta di cittadella e aveva due regole interne. Una era la separatezza rispetto alla società. Non a caso si diceva che l'università era una cittadella. La seconda era la regola della cooptazione. Cioè l'università si entrava perché si era cooptati. Nella società moderna tutte queste, entrambe queste due regole sono venute meno. Non è più possibile avere una separatezza e non è più possibile pensare che si venga cooptati perché la cooptazione esasperata ha portato a parentopoli, ha portato a distruggere il merito, ha portato a degli interi dipartimenti dove se si entra si vede sulla targhetta delle porte sempre o prevalentemente lo stesso cognome. Lei da senatore sta dicendo questo perché ci ha lavorato ma è anche un professore quindi da tecnico può anche dirci se è vero che in qualche modo si va a lavorare anche sulle baronie. Cioè si dice che questa riforma piace ai baroni e non forse meno ai rettori perché in qualche modo determinati privilegi vengono confermati. No, io invece credo che con questa riforma si inizia un percorso nel quale i privilegi vengono distrutti. L'università italiana ha avuto tantissimi sprechi. Ci sono state università che hanno fatto centinaia di milioni di debiti senza nemmeno accorgersene per aprire delle fedi dove i docenti erano più degli studenti perché magari non ci si doveva muovere da casa. Si sono aperti corsi di laurea inutili con addirittura la clonazione del professore che aveva quattro o cinque corsi contemporaneamente. Ora con questa riforma si introducono due criteri. Uno, il merito. Due, la concorrenza. Che vuol dire? Vuol dire che all'interno di un'università se uno tira la carretta, e le assicuro ci sono tanti professori che tirano la carretta, allora non viene trattato nello stesso modo di chi approfitta della situazione e non si fa vedere. E l'Ateneo viene valutato per quello che produce in termini scientifici, in termini di innovazione, in termini di didattica, secondo parametri internazionali. E se produce di più, ha di più. Se produce di meno, ha di meno. Che cosa significa questo? Che un Ateneo avrà tutto quanto l'interesse a portare dentro i migliori. E se selezionerà un asino, a pagarla sarà l'Ateneo, perché la valutazione diminuirà e quindi avrà anche meno finanziamenti e così le università potranno anche fallire. Vede, questa è una cosa che serve soprattutto ai giovani. Oggi noi abbiamo carriere universitarie infinite, con il fatto che magari si presta servizio presso un barone per 20-25 anni e poi si è promossi. Io dico, si prende appunto un incarico per un sucapione ventennale. Ecco, questa riforma invece dice, no, c'è un percorso specifico. Tu entri. Quando entri nell'università non sai se hai una vocazione o meno, ma hai un tempo in cui lo devi dimostrare. E dopo quel tempo, e sei ancora giovane, sei nel mercato del lavoro, o hai la stabilizzazione oppure esci dall'università e vai altrove. Quindi, vede, molto spesso gli studenti hanno fatto delle mobilitazioni contro i propri interessi. Ecco, io non vorrei che questo sia un altro caso. Questa non è una riforma per i baroni, è una riforma per la modernizzazione dell'università. È inutile dire che noi dobbiamo dare più soldi all'innovazione, più soldi alla modernizzazione. Poi, quando abbiamo una riforma che va in questo senso, se ne prendono le distanze con argomentazioni francamente risibili. Molti degli studenti che sono scesi in piazza non sanno perché l'hanno fatto. L'hanno fatto per un senso di ribellione complessivo, che deve essere compreso, ma bisogna a volte anche avere l'umiltà e la durezza di spiegare loro che non si è d'accordo. Sarà più difficile, però è certamente un atto di generosità nei loro confronti, che non essere dei cattivi maestri, e sposare le loro tesi in maniera critica, anche magari senza sapere che cosa dicono. Finanziaria, parliamo della finanziaria. Una finanziaria che cosa prevede per i cittadini? In qualche modo c'è una parte che interessa anche da vicino le emittenti locali, c'è un maxiemendamento che riguarda le emittenti locali. Pensa che in entrambi i casi sia i cittadini sia le emittenti potranno essere in qualche modo soddisfatte da quello che prevede la prossima finanziaria? Guardi, io penso che non ci può essere una soddisfazione immediata. Ci può essere una soddisfazione che nasce dalla riflessione e dalla sedimentazione del momento. Noi stiamo vivendo una svolta epocale, nella quale non c'è più corrispondenza tra l'economia reale e l'economia di carta. Che cosa vuol dire? Che noi abbiamo vissuto tutti al di sopra delle nostre possibilità in Europa. Ed oggi si stanno verificando situazioni che noi non pensavamo possibili, come il fallimento degli stati nazionali, come il crollo dell'Europa stessa. Qual è la realtà? Che si è fissata una regola a livello europeo. E questa regola viene seguita in Inghilterra da Cameron, in Germania dalla Merkel e da tutti i paesi più virtuosi. E cioè che la crescita deve avvenire sulla stabilità dei conti pubblici e della situazione economica. Non è più possibile crescita in deficit, non è più possibile dare spazio al partito della spesa pubblica. Ora l'Italia si trova a gestire un'eredità non facile, perché l'Italia è il terzo debito pubblico e non è la terza economia del mondo, perché l'Italia l'energia costa molto di più che in altri paesi per politiche sbagliate del passato e perché la macchina dello Stato in Italia è molto più pesante di quella degli altri paesi, anche persino della stessa Francia, che come si sa è un paese statalista. In questa condizione è evidente che assicurare la stabilità non è facile ed è qualcosa che incide sui bisogni di tutti, ma è l'unica strada con la quale possiamo dare sicurezza al nostro paese. Anche in settori particolarmente esposti, come quelli dell'emittenza locale, avere un'emittenza diffusa è certamente un interesse, perché è una ricchezza, anche una ricchezza economica, perché in qualche modo sostiene l'emittenza privata, quel sistema di piccole e medie imprese che è la caratteristica della economia italiana. E dunque questo è un interesse di tutti, si vorrebbe fare di più, ma se poi noi determiniamo delle situazioni come quelle che si sono verificate in Irlanda, in Spagna, in Grecia, solamente per fare alcuni esempi. Beh, insomma, noi daremmo dei vantaggi fittizi che si rivolgerebbero contro coloro i quali li hanno ottenuti. È difficile spiegare che la strada è un'altra ed è quella, diciamo, della severità ed è quella della salvaguardia dei conti. Ma questo tutti lo devono capire. Senatore, però lei sa benissimo che la pluralità della informazione è indispensabile, quindi in qualche modo ci devono essere delle regole, dei paletti che garantiscano la pluralità dell'informazione. Lei mi sta ponendo un problema più ampio al quale non mi sottrago. Io penso che in Italia c'è stata una grande legge di sistema, che è stata la legge Gasparri, che è tempo per pensare ad una nuova grande legge di sistema. Non sono passati tanti anni dalla legge Gasparri, ma lo sviluppo tecnologico ha reso già quella legge per molte parti superata. Pensi al moltiplicarsi delle piattaforme, pensi al problema del digitale. Allora io ritengo che per salvaguardare la pluralità dell'informazione all'interno di questo, anche quella ricchezza collettiva che è costituita dalla emittenza privata. Noi dobbiamo porre il problema di una grande legge di sistema. Se questa legislatura avrà una continuazione, come io spero, con un governo forte, è un impegno che noi assumiamo, quello di iniziare a riflettere su come è possibile creare le condizioni per una stabilizzazione e un equilibrio del sistema nelle condizioni che si sono modificate. Dopo il 14 dicembre lei dice che ci sarà un futuro per questo governo? Io me lo auspico perché abbiamo detto che in questo momento serve stabilità economica e stabilità politica. Io penso che solamente questo governo, che è stato legittimato dai cittadini, ha la possibilità di conseguire i due risultati. È evidente che se la mozione di sfiducia alla Camera sarà approvata, io penso che la strada delle elezioni è quasi obbligatoria, perché da una parte ci sarà una maggioranza in Senato e alla Camera ci sarà una maggioranza diversa. Se invece la mozione alla Camera dovesse essere respinta, io penso che ci sarebbe la possibilità per rilanciare l'azione di governo. È chiaro che in quel caso ci dovrà essere un appello ad allargare la maggioranza, la base parlamentare dell'attuale maggioranza. Siamo ben consci che anche ottenendo la maggioranza assoluta dei consensi nei due rami del Parlamento, questo non vuol dire avere i numeri per governare, perché per governare è necessario avere dei numeri più ampi. Basti pensare agli impegni dei ministri e dei sottosegretari che non possono essere costretti in aula. Però ci impegneremmo a fare questo, a chiedere a quel punto, sulla base di un verdetto chiaro delle Camere, alle forze responsabili di concorrere ad allargare la base del governo. E in questo caso è possibile evitare le elezioni. Ma mi sembra l'unica strada praticabile. Parliamo di Bari. Edilizia giudiziaria a Bari. Un problema ancora irrisolto, ma forse la soluzione provvisoria individuata dal sindaco di Bari, Michele Emiliano potrebbe essere anche quella definitiva. Lei che cosa ne pensa? Io penso questo, le dico sinceramente. Io penso che c'è un'emergenza. E cioè, la giustizia penale rimane, tra breve, senza casa. E la casa che ha, dicono che sia una casa illegale. Ora, che il tribunale stia in una condizione di illegalità è un paradosso. E allora bisogna rispondere all'emergenza. L'emergenza è quella di trovare una casa alla giustizia penale a Bari. Probabilmente la soluzione più a portata di mano è quella dell'ospedale Bonomo. Leverei il probabilmente. Questo non vuol dire aver riunito tutti gli uffici giudiziari. Manca la giustizia civile, manca il tribunale per i minori. Dunque, questa ipotesi non è alternativa all'ipotesi della cosiddetta cittadella della giustizia. E l'interesse a che la giustizia sia riunita in un luogo unico è un interesse che tutti gli operatori della giustizia comprendono, soprattutto nel momento nel quale si vanno sempre più intersecando i rapporti tra le diverse branche della giustizia. Cittadella della giustizia, allora. Questa deve essere quella che è stata fin qui immaginata, oppure può essere un'altra. Al momento, anche alla luce dei pronunciamenti, deve essere quella che è stata fin qui immaginata. Se i pronunciamenti saranno diversi, evidentemente si potranno prendere in considerazione anche ipotesi differenti. Io credo che sia un errore procedere in quest'ambito sulla base delle illazioni. Questo è un ragionamento di buonsenso e lineare, che non risponde a nessun interesse particolare e che dice alla politica che devi agire e prenderti le tue responsabilità negli spazi che hai però, non andando oltre gli spazi. Perché se no la politica diventa crociata e Bari non ha bisogno di altre crociate. Non è possibile andare avanti da una punta perotti a un'altra. Anche perché dovrebbero essere realizzati dei lavori nel ex bonomo che poi potrebbero anche non servire successivamente. Si tratta tra l'altro di spendere dei milioni di euro. Sì, è evidente che se quella deve essere la soluzione provvisoria, bisogna anche trovare il modo per non disperdere quei soldi che vengono investiti e quindi immaginare anche un utilizzo definitivo. Però è anche vero un'altra cosa che dobbiamo considerare. Che se anche si partizze oggi nella realizzazione della cittadella e sappiamo che non è così, ci vorrebbero 3-4 anni al regime. Noi non è che possiamo pensare per 3-4 anni di mettere il tribunale sotto i ponti.